Meglio che non sappia quello che sto pensando. Giusto che la ritengo la principale responsabile di questa storia. Sì, Flora, è un'immatura e ho intenzione di punire i ragazzi uno per uno. Molto bene, signore. È così che si fa mano ferma nella casa dei pazzi. Sì, 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 perché lei parla, parla, parla e non frena mai la lingua. Io darei un cattivo esempio perché ho delle donne. Ma chi l'ha detto? Allora, chiede disciplina? Lei che insegna a dire le bugie, chiede disciplina? Molto bene. Florenzia Santigian. Vedrai chi è il conte di Cricoragana. Signore? Sì. Musica? Musica. In un ospedale? Sì, la sento. Andiamo. No, no, no. Resta qui. Vado lì. Aspettato. Un ospedale? Grazie a tutti 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 Dunque quello che volevo dirti è che da questo momento le cose tra noi devono cambiare Noi dobbiamo trovare un accordo Sì Capisco che hai fatto tutto questo per una buona causa Ed è lodevole ma potevi farlo almeno il prossimo fine settimana Ma sei pazzo? Queste opportunità vanno colte al volo Non possiamo aiutare le persone solo quando ci fa comodo in base ai nostri impegni Vuoi capirlo? Florencia Tu sei veramente un egoista Se mi avessi chiesto il permesso sicuramente te l'avrei dato Sì certo voglio proprio vedere se me l'avresti dato Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto è un tesoro questa ragazza e non so come ripagarla Ti prego non devi dirlo neanche per scherzo tutto quello che ho fatto l'ho fatto con il cuore E se mi chiedessi di ballare ancora lo rifarei subito per i bambini Sì mi piacerebbe Però è meglio che ve ne andiate in fretta perché quando arriverà il direttore sarà un disastro Sì certo certo Saluta lì e andiamo tesoro Ah e aspetta ho un'idea Voglio disegnarti il mio cuore Ecco E la prossima volta tu mi disegnerai il tuo Va bene? Sì? Vai Vai piccolina Andiamo a casa Vieni